Questa volta mi sono preso del tempo prima di dire la mia sui nuovi processori AMD Ryzen 6R 5000 basati su architettura Zen 3 e direi che ho fatto bene perché credo di aver maturato una valutazione generale forse un pochettino più ragionata rispetto all'entusiasmo iniziale che condivido assieme a molti altri tuttavia penso che per questi processori Ryzen 5.000 e i corrispettivi Intel Core 10.000 ci sia qualcosa di più rispetto il semplice dire viva AMD finalmente top su tutti gli aspetti RIP Intel come vedo scrivere in diversi commenti se non hai ancora attivato Windows puoi farlo con una spesa di poco più di 10 euro vai su cdkdears.com cerca Windows 10 Pro seleziona il prodotto che vuoi acquistare e procedi alla registrazione dell'utente successivamente puoi procedere all'acquisto ma ricordati di inserire il coupon F20 che ti dà diritto al 20% di sconto finalizza l'ordine scegliendo il metodo di pagamento che preferisci c'è anche Paypal dopo il pagamento riceverai il codice di attivazione in mail per attivare Windows apri le impostazioni inserisci il codice che hai ricevuto conferma ed ecco che Windows è attivato quello che voglio fare è delineare un giudizio pesato per permettervi di darvi abbastanza informazioni per capire ovviamente vi darò anche dei suggerimenti a fine video comunque capire in questo preciso momento storico quale processore sia meglio acquistare quindi se un nuovo Ryzen 5000 o un Intel Core 10.000 perché no? lo dico subito scegliere indiscriminatamente un processore Ryzen 5000 ad oggi potrebbe non essere la scelta azzeccata per tutti la mia provvisione pubblicata su un video di circa un mese fa su Ryzen 5000 recitava quindi ero convinto che i nuovi processori 5000 avrebbero equiparato Intel per quanto riguarda le prestazioni single core quindi che non ci sarebbe stato come dire uno sorpasso enorme sotto questo punto di vista mentre avrebbe migliorato ulteriormente le prestazioni multi core che comunque erano già buone da diversi anni e di conseguenza la battaglia si sarebbe spostata più sul prezzo che sulla scelta come dire di prestazioni pure e vi dirò è praticamente quello che è successo e se vi è sfuggita come dire questa cosa nei prossimi minuti appunto andrò più nel dettaglio per farvi capire tutto il ragionamento che oggi secondo me bisognerebbe fare se vi trovate davanti appunto a questa decisione di scelta se AMD o Intel scolpiamo prima di tutto un fatto nella roccia perché non voglio come dire che questo fatto comunque passi inosservato perché è molto importante AMD ha fatto con Zen 3 passi da giganti i miglioramenti rispetto a Zen 2 sono sostanziali sono considerevoli e AMD in tre anni è riuscita praticamente a ribaltare la situazione del mercato a memoria non ricordo un'altra situazione di questo genere quindi come dire è un passo storico che entrerà nella storia quindi vi faccio veramente i miei applausi a quello che è stato in grado di fare AMD negli ultimi tre anni per quanto riguarda Zen 3 AMD ha mantenuto la promessa cioè di quel miglioramento dell'IPC del 19% rispetto a Zen 2 ma secondo me ha fatto qualcosa di ancora meglio cioè ha fatto qualcosa che non era immaginabile e che anche io ho sottolineato in alcuni miei video precedenti in pratica AMD ha mentito sulla massima velocità dai processori della serie 5000 non è qualcosa di negativo tutt'altro in realtà i nuovi se guardiamo le specifiche tecniche i nuovi processori arrivano in boost tendenzialmente top di gamma 4.9 GHz quindi comunque ha impostato una massima velocità in boost ma in realtà quello che accade è che questi nuovi processori sono in grado di andare oltre questa velocità indicata di boost di AMD il fatto è che guardando solamente le specifiche tecniche si vedeva come i nuovi 5000 non avrebbero raggiunto le velocità in single core comunque in boost uguali a quelle di Intel non avrebbe equiparato come dire Intel sotto questo punto di vista e quindi lasciava in un certo senso uno spiraglio di vantaggio alla controparte ed era quindi immaginabile che in situazioni single core pure a Intel potesse avere ancora un piccolo vantaggio prestazionale quantomeno in alcune applicazioni ma all'atto pratico i processori AMD quelli da mai testati quelli testati da diverse altre testate sono in grado di fare meglio rispetto a quanto indicato e arrivare tranquillamente e a superare spesso e volentieri anche la barriera dei 5 GHz probabilmente AMD è stata conservativa sotto questo punto di vista per principalmente evitare possibili critiche anche perché sappiamo che in questo caso entra in gioco la cosiddetta lotteria del silice cioè alcuni processori alcuni lotti come dire di processori sono più o meno fortunati di altri quindi era rischioso per AMD dire i processori arrivano tutti a 5 GHz e quando magari poi non tutti ci arrivano e di conseguenza ci sarebbe stato un mare di critiche in ogni caso dovete ricordarvi che per il processore AMD per raggiungere questi livelli prestazionali e quindi equiparare Intel sotto ogni punto di vista necessitano di una buona motherboard quindi in grado di alimentare bene in maniera stabile in maniera sufficiente i vari processori e anche di un sistema di raffreddamento che è in grado di tenere la temperatura dei processori il più bassi possibile perché con questi due fattori quindi buona alimentazione e bassa temperatura i processori riescono a salire chiaramente di velocità di clock Intel da questo punto di vista chiede meno in termini di qualità di motherboard o del sistema di dissipazione per mantenere delle velocità elevate quindi dovete tenere in conto questo è uno dei primi dati che adesso piano piano gli aggiungerò per arrivare alle conclusioni quindi tenete in mente che se volete avere il massimo dalle nuovi processori i nuovi processori Ryzen 5000 dovrete abbinarli comunque a una buona motherboard e a un ottimo sistema di dissipazione detto questo arriviamo però a vedere le prestazioni di questi processori sapete che c'è? non vi farò vedere nemmeno i test no perché in realtà come detto sono uscito qualche giorno dopo la presentazione ufficiale dei nuovi processori quindi sul web è pieno di test è infinito anzi vi lascio qui sotto in descrizione dei link ai diversi siti dove potete cliccarci e andare a vedere tutti i benchmark che volete quello che però faccio è esemplificare con questo grafico come tendenzialmente si posizionano i nuovi processori Ryzen rispetto alle controparti Intel in termini proprio se uno è più o meno veloce dell'altro nella maggior parte dei test di produttività scientifici quindi praticamente tutti quei test in cui non sono videogiochi tendenzialmente questa semplificazione è per dirvi appunto il loro posizionamento ricordatevi che se volete vedere quanto si discostano l'uno dall'altro vi ho lasciato un sacco dei link qui sotto in questi test dove comunque non solo single core ma anche il multi core conta nella maggior parte di questi conta molto di più del single core beh i nuovi Ryzen 5000 sono praticamente sempre davanti alle controparti Intel e spesso e volentieri si trovano anche i vecchi tra virgolette Ryzen 3000 superiore Intel quindi per quanto riguarda le prestazioni multicore nessuno su questa terra può avere dei dubbi ad oggi i processori Ryzen Ryzen 5000 ma anche passati sono in grado di offrire prestazioni veramente ottime e sono in grado di fare meglio rispetto alla controparte Intel lo scenario cambia un po' nei videogiochi e sicuramente questo è un tema che sarà a cuore a molti e in questo caso bisogna fare una distinzione quindi seguitemi bene in questo passaggio altrimenti non capirete il ragionamento che c'è dietro bisogna dividere i test effettuati per mettere in risalto le prestazioni delle CPU e i test effettuati invece in condizioni normali in condizioni reali cioè quelle situazioni che poi voi provate nella vostra casa quando volete realmente giocare a un videogioco per mettere in risalto le differenze prestazionali delle CPU nei videogiochi bisogna testare questi videogiochi con risoluzioni impostazioni inculitative molto molto basse il che significa da risoluzione full HD in giù quindi meno 720p 360p e via discorrendo per farla breve ci ho dedicato poi un video a parte se volete approfondire andate a ricercarlo per farla breve perché bisogna testare in questa maniera perché in caso contrario alzando risoluzione a livello qualitativo il lavoro sulla scheda grafica è molto più pressante cioè deve fare molto più lavoro e spesso e volentieri in quella situazione la CPU si trova in uno stato di attesa cioè aspetta che la GPU finisce il suo lavoro per poi andare come dire avanti a fare la sua parte di lavoro capite bene che in questa situazione vi troverete nei casi limite dove un processore un Ryzen 3 offre le stesse lindiche prestazioni di un Ryzen 9 tanto per fare il caso super limite però è anche un caso reale non è completamente inventato capite bene che questa situazione è appunto la situazione prima raccontata cioè quella per mettere in risalto le differenze prestazionali grezze della potenza grezza e pura della CPU ma voi a casa non giocherete a 360p 720p e se siete dei veri giocatori punterete a una scheda grafica che vi permette di andare come minimo in full hd e come minimo in full hd ma allevati livelli qualitativi tra i vari link che vi ho lasciato qui sotto appunto ci sono alcuni che mettono proprio in risalto queste due differenze cioè i test in queste condizioni e anche i test in condizioni invece normali quindi con un mix di risoluzione impostazioni qualitative che sono poi quelle che noi utilizziamo quotidianamente quando vogliamo giocare e appunto se consideriamo queste due situazioni come si comportano i nuovi Ryzen 5000 beh nei test in cui si cerca di isolare le prestazioni della CPU in diversi giochi sono avanti i Ryzen 5000 in altri sono a pari con Intel mentre in altri vince Intel devo dire che in questa situazione le situazioni in cui i Ryzen si comportano bene sono decisamente molte in media anche superiore rispetto a quello che sono in grado di fare i processori Intel se tuttavia passiamo a una situazione con risoluzioni impostazioni qualitative più elevate quelle reali come abbiamo detto prima la situazione un po' si ribalta troviamo sempre situazioni in cui i Ryzen vanno meglio alle volte vanno uguali alle volte vanno peggio rispetto Intel e in media notiamo che se consideriamo il 99% se non sapete cos'è anche in questo caso ho fatto un video non posso approfondire in questo momento andate a cercarlo allora troviamo diverse situazioni in cui Intel riesce a fare meglio rispetto anche ai nuovi Ryzen 5000 vi invito nuovamente a dare un'occhiata a tutti i link qui sotto e ad analizzare bene i benchmark i grafici che vedrete che appunto esemplificano quello che vi ho appena detto tiriamo quindi le conclusioni nel campo delle prestazioni per quanto riguarda l'ambito produttivo multicore scientifico quindi in generale multicore non c'è storia i Ryzen 5000 riescono a fare meglio rispetto ai core di decima generazione in campo gaming soprattutto in condizioni di uso reale la situazione non è così schiacciante al contrario vediamo i processori Ryzen 5000 e core 10.000 che offrono un reale testa a testa anche laddove è più avanti un processore Intel o è più avanti un processore Ryzen la differenza in termini di FPS pura è limitata alla frazione dell'FPS e al massimo arriva di qualche FPS nei giochi dove già si generano più di 100 o alle volte anche più di 200 FPS questo è il motivo tecnico che mi fa dire che ad oggi scegliere così ad occhi chiusi un processore Ryzen potrebbe non essere la soluzione migliore per tutti soprattutto quando introduciamo l'altra variabile importante cioè quella del prezzo AMD sapeva benissimo di questa situazione cioè della bontà dei suoi processori se in passato AMD ha sempre avuto dalla sua come dire l'arma del prezzo cioè produceva dei processori che andavano meno in termini di prestazioni ma costavano meno ora non ha più bisogno di fare questa mossa perché la competizione dei suoi processori rispetto a quelle di Intel è allo stesso identico livello e quindi ha deciso e si è permessa di alzare i prezzi di listino ad oggi i Ryzen 5000 costano tanto quanto o addirittura di più rispetto alle dirette controparti di Intel sappiamo che i prezzi sono liquidi quindi non ho definito in questo video proprio dei prezzi specifici perché probabilmente quando lo state guardando quei prezzi sono ancora cambiati tuttavia mi limiterò quindi a darvi dei come dire consigli generali che possono tenere in considerazione il rapporto dei prezzi tra il processore AMD e Intel avversari vediamo quindi quale processore dovreste acquistare in base alle vostre necessità in questa categoria ricadono tutti coloro che utilizzano il computer in maniera classica diciamo quindi da YouTube post elettronica social network navigazione web un po' di office per dire e anche giocare per voi il dato che vale di più è il prezzo e il risparmio che potrete ottenere perché le doti come dire le prestazioni superiore in ambito multicore dei processori Ryzen difficilmente riuscirete ad applicare a vedere questo vantaggio nella realtà quindi con questa tipologia di applicazioni e come detto con i videogiochi impostati con risoluzioni impostazioni qualitative normali come utilizzate come utilizziamo noi tutti i giorni la differenza tra i Ryzen 5000 e i Core 10.000 è praticamente azzerata quindi guardate il costo del processore Ryzen 5000 che volete acquistare guardate poi anche il costo del corrispettivo Intel Core di decima generazione che volete acquistare e ricordate veramente mettete nell'equazione anche il costo della motherboard e ricordatevi che se volete il massimo del processore Ryzen 5000 dovete abbinarlo a un ottimo sistema di dissipazione fate queste due configurazioni mantenendo chiaramente inalterati gli altri componenti e vedete il prezzo finale è ovvio che in questa situazione se vi trovate una configurazione basata su Ryzen 5000 che costa come la soluzione Intel optate per la piattaforma AMD se invece trovate una piattaforma Intel meno costosa valutate questa differenza di prezzo se per voi è importante risparmiare prendete Intel perché in quel momento avrete risparmiato e non avrete rinunciato nulla in termini di prestazioni con le applicazioni e l'uso reale che ne farete del pc ovvio che se non vi interessa spendere 100-200 euro in più se è questa la differenza di prezzo che avrete allora prendete AMD se non vi interessa il prezzo ovvio ma se volete risparmiare vale quanto appena detto in questo caso non c'è alcun dubbio anche se spendete di più perché spendete di più per la scheda madre per il sistema di dissipazione per il processore stesso il vantaggio che avrete in condizioni multicore quindi con le varie applicazioni che utilizzate e che utilizzano multicore avrete un grande vantaggio che varrà quella spesa in più quindi prendete una piattaforma AMD Ryzen 5000 ovviamente un pc del genere andrà benissimo anche per giocare quindi avrete fatto la scelta migliore siamo ancora nel primo caso enunciato laddove volete solamente giocare e vi interessa risparmiare fate le configurazioni fate i conti e se avete un vantaggio in termine economico ad acquistare Intel andate con Intel chiaro ragioniamo sulla differenza di prezzo magari se si tratta di risparmiare qualche decina di euro non vale la pena prendete AMD ma se la differenza di prezzo che avrete per voi è importante magari per voi è importante risparmiare anche 50 euro 10 euro o magari chiaramente di più diventa più interessante allora optate per Intel cioè risparmiate e sarete ugualmente felici la risposta migliore in questo caso sarebbe di evitare di passare ai Ryzen 5000 perché probabilmente le prestazioni che avrete in più come detto soprattutto con i giochi saranno ininfluenti di conseguenza starete acquistando spendendo dei soldi in più per non avere un gran divario prestazionale quindi non avrete vantaggi oltretutto in questo periodo storico AMD ha fatto la sua mossa ora toccherà Intel a fare la sua mossa mossa che arriverà secondo quanto si sa per ora entro il primo 3-4 mesi dell'anno prossimo quindi se siete in questa situazione vale la pena attendere aspettare qualche mese e vedere quale sarà la risposta di Intel bene amici spero di aver chiarito le idee per lo stato attuale dell'industria delle CPU vi raccomando fate bene i conti e valutate bene il numerino di un benchmark non è tutto bisogna poi vedere quanto pesa il risparmio e soprattutto come cambia quel numerino del benchmark in condizioni reali vi ringrazio per avermi seguito in questo video lasciate un mi piace condividete il video iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un altro video ciao ciao